E ora diamo il benvenuto al nuovo fenomeno, i Kitty Section! Luca, erano vere le cose che hai detto prima quando eri alcumizzato? Mi dispiace, Marinette, ma non mi ricordo. Che cosa ho detto? Ehm... oh, niente! Proprio niente! Eri posseduto dalla kumad di Papillon? Non so cosa io possa aver detto. Spero solo niente dispiacevole. Tu sei una ragazza straordinaria, Marinette. Limpida come una nota musicale e sincera come una melodia. C'è la musica che suona nella mia testa dal primo giorno che ti ho incontrata. Questa era una dichiarazione d'amore, vero, Tiki? È proprio una delle più belle che abbia mai sentito. Questa è una dichiarazione d'amore.